Ciao, benvenuto alla seconda puntata dedicata alla differenza tra il concetto dell'interiorità e il concetto dell'esteriorità, alla percezione che si ha di questi due mondi. Allora, cominciamo col sottolineare in questo video post che effettivamente potrebbe non esserci questa differenza. Perché questi due mondi noi li viviamo in collisione? Perché noi viviamo nella consapevolezza di quello che possiamo essere noi e poi anche nella consapevolezza del giudizio che gli altri o comunque il mondo esterno ha di noi. Possiamo provare a fare un cambio di prospettiva. Il giudizio che hanno gli altri di noi ha rilevanza su di noi laddove noi stessi diamo questa importanza, diamo questa rilevanza. perché laddove non c'è questa rilevanza, ognuno che ci parla o comunque si relaziona con noi può anche emettere il giudizio a cui noi non diamo peso, per cui non entrano nella percezione della nostra realtà interiore. Quando diventano importanti? Quando noi diamo questo peso, questa importanza. Allora già il discorso diventa un po' più labile di differenza tra mondo interno e mondo esterno. Perché se siamo noi che diamo un valore alle opinioni altrui è sempre qualcosa che viene dall'interiorità. Questo è un discorso più o meno logico in cui è l'interiorità ad interpretare il mondo esterno. Allora a questo punto la domanda che ci dobbiamo porre è una domanda relativa all'esistenza del mondo esterno. Ma io questo non lo sto mettendo in discussione. Io sto mettendo in discussione questi due mondi che si dovrebbero vedere in collisione, ma in realtà non lo sono per niente. Questa realtà oggettiva comunque dalla nostra interiorità, cioè dal nostro modo di essere viene interpretata. Quindi tanto oggettiva non è per il referente che la interpreta. A questo punto già la differenza, la sensazione di differenza che c'è tra questi due mondi che noi percepiamo come mondi diversi, già comincia a ridimensionarsi. Cominciamo a vedere anche un altro aspetto di questa mia, diciamo tra virgolette, teoria, che è quella in cui non c'è proprio questa differenza. L'interprete, cioè noi, l'interprete della realtà esterna, molte volte condiziona anche la realtà esterna attraverso il suo atteggiamento interpretativo. Perché qualora io dia peso alle opinioni altrui e quindi cambi interiormente atteggiamento nei confronti di quella persona che si sta relazionando con me, il cambiamento è sempre determinato dalla mia stessa interiorità. Allora, cosa possiamo fare per togliere di mezzo questa divisione che noi percepiamo? Dobbiamo risalire a quello che noi identifichiamo con il nostro essere, ossia con il concetto di personalità. Ma di questo ne parleremo della terza puntata. Ciao!